Buone notizie sotto l'albero di Natale per i condomini di Via Malpighi. I lavori per la sostituzione della copertura del tetto in amianto del caseggiato popolare prenderanno infatti abbio nel 2018. Ad annunciarlo era stato il presidente di Arezzo Casa, Gilberto Dindalini, dopo l'arrivo di finanziamenti dal Ministero per le Infrastrutture. Noi avevamo messo in bilancio 400 mila euro per sostituirci ad Arezzo Casa e cominciare nel 2018 i lavori in Via Malpighi per la sostituzione del tetto in amianto. Il presidente di Arezzo Casa ha comunicato che sono arrivati dei fondi ministeriali per cui Arezzo Casa nel 2018 inizierà i lavori di Via Malpighi. Per cui è stata una sorpresa anche per noi, ne siamo ben felici perché di fatto i lavori spettavano e spettano ad Arezzo Casa, per cui ben felici. L'importante è la risoluzione del pubblico. Il tetto del caseggiato si era danneggiato dopo la tempesta del 2016. Gli abitanti di Via Malpighi hanno dimostrato veramente in questa vicenda una grande forza e sono riusciti a portare all'attenzione di tutta la città il problema in generale dell'amianto e in particolare per quei tetti. Quindi abbiamo in precedenza l'amministrazione comunale, aveva fatto proprio la nostra petizione, la petizione di oltre 4.000 cittadini di Arezzo e aveva messo quei lavori nel piano triennale che era già un successo. Il Arezzo Casa di recente ha detto ufficialmente che sono arrivate delle risorse ministeriali e quindi procederà nel 2018 alla rimozione di quel tetto. Noi vigiliamo che questo venga fatto nei tempi dichiarati.